Sia Alfavoli, benvenuta a Carta Carbone, grazie di essere tra noi e di averci onorato con la sua presenza. Una domanda solo se, che cos'è per lei la scrittura? Ah, per me è la vita. Io quando ho cominciato questo lavoro, io scrivo per vivere, non so fare altro. Se qualcuno mi chiedesse cosa vuoi fare, non so fare altro, so solo scrivere. E devo dire che dentro di me costruisco tante frasi che poi mi vengono di getto. Io tutto il giorno scrivo dentro e poi immagino cose che scriverò dopo. Vedo sempre qualcosa di nero su bianco, non sulla carta ma adesso sul computer ovviamente. Perché io sono nata con la macchina da scrivere, anzi addirittura con la penna perché ho fatto le elementari e avevo il pennino negli anni 60. Sono in 58 ovviamente. Sono arrivata alla macchina da scrivere e adesso al computer, anche a Twitter e anche a tutti gli altri mezzi tecnologici. Però per me la scrittura è vita. Io non posso stare. E penso che dovrò pensare un romanzo della mia vita. Non è importante quella della mia vita, ma tutte le persone sono attorno e le sto un po' incasellando. Ogni tanto ci penso. Quindi per me scrivere è fondamentale. Non posso cantare, sono stonata, quindi scrivo. Fantastico, grazie mille. Prego, bellissimo. Ok.